Ci si trova, ci si fa coraggio e ci si va avanti. Per cui mio figlio è morto il 29, mio marito il 30 marzo. Non ho più niente da niente. Grazie mille, grazie signor. Buona giornata, buon tutto. Grazie, anche a voi. Signor Pasquale, finalmente Castiglione Messerremondo azzera i casi di positività. Com'è stato vivere questi mesi? È un po' triste è stato, purtroppo che possiamo fare, queste sono le cose. Piano piano speriamo che passerà tutto. Capò. Indegniamoci che non è che dici due mesi, tre mesi. Io speriamo veramente per Natale, sai com'è, andiamo avanti, ci rimettiamo, non sa che no. Purtroppo noi siamo un paesetto dove ci conosciamo un po' tutti ed è stato veramente brutto e quindi siamo veramente contenti di essere arrivati allo zero, iniziare a vedere un po' di luce. E quel bar, le attività iniziano a frequentare, a ripopolarsi? Eh, pieno piano, con molta, molta, molta difficoltà, però sì, adesso si inizia a vedere qualche movimento in più, un po' di serenità più con la gente. La paura c'è stata, c'è stata per tutti. Ora speriamo insomma che torniamo alla normalità, che si riparte. Quanto è stato difficile vivere tre mesi, chiusi in casa, tre mesi, ma anche di più di tre mesi? Più che chiusi in casa, proprio vedere l'ambulanza tutte le sere, le campane che suonavano a morte, insomma è stato brutto. Siamo molto felici, sì, all'inizio le difficoltà sono state tante, La gente aveva paura, meno male, con le dovute cautele, perché tutto dipende anche da noi, se siamo attenti, meglio per noi. Quando è stato emozionante riaprire il negozio, l'attività e fare felici i primi clienti? Guardi, non mi dica, sì, il giorno di riapertura, diciamo una grande festa, senza bracci, senza baci, giornata stancante, ma bella, sì. Voi vi conoscete tutti in questo paese e conoscevate anche purtroppo le 14 persone che sono venute a mancare? Sì, sì, assolutamente, infatti è stato traumatico per tutti, dalla prima vittima fino all'ultima. E adesso anche per voi giovani può tornare un po' di sereno con la riapertura di tante attività e tornare piano piano alla normalità? Sì, torniamo al lavoro, torniamo alla normalità, speriamo che appunto tutte queste attività ripartano comunque al meglio. Giovani? Giovani diciamo che sono quelli che hanno sentito di meno la cosa, però anche loro fanno la loro parte, nel senso che si cerca di stare il più possibile attenti. Diciamo che questa brutta avventura è stata capita dalle persone? Sì, sì, qui sì, ne abbiamo risentiti tutti, tutti, dai piccoli ai più anziani, veramente tutti. Non è fiducioso? Non è fiducioso, assolutamente. Purtroppo 14 morti sul vostro comune le riconosceva? Sì, sì, quasi tutti. È stato difficile? È molto difficile, dispiaggioso veramente, purtroppo che possiamo fare noi? Questa è la vita, dobbiamo rassegnare che piano piano, porre che ci è capitato, che possiamo fare. Quello destino che deve andare in quella maniera e via. Dopo questa pandemia, gli amici che ci hanno lasciati, anche perché qua ci conosciamo tutti, tutti, indistintamente. Ecco, potete tornare alla normalità pian piano. Speriamo, e siamo già a buon punto.